Noi abbiamo una linea di prodotti a marchio che oggi copre circa 1180 referenze, per cui copriamo un po' tutte le referenze e in aggiunta a questa abbiamo una linea che si chiama Piacere Italiani, già il nome racconta tante cose, che è proprio caratterizzata dai prodotti tipici, noi abbiamo 131 referenze all'interno di questa linea Piacere Italiani, che noi posizioniamo il piacere del gusto, proprio nei materiali di comunicazione c'è proprio questa scritta, questa frase e copre una valenza strategica, perché? Perché mette a valore la tradizione, la qualità, il gusto, la bontà, potrei andare avanti con tante altre parole, tipica del buono italiano. Copriamo un po' tutti i vari comparti, ovviamente la maggior parte dei nostri prodotti sono DOP e IGP, per cui abbiamo formaggi, abbiamo i salumi, abbiamo l'aceto, abbiamo una piadina, abbiamo il pane, i panificati, il confezionato, copriamo veramente un ampio range di comparti. Mario, che cos'è il brand a due passi da qui? Allora, a due passi da qui ha un valore molto importante per noi come gruppo, è un brand come giustamente hai citato tu, che abbiamo registrato e che ha l'obiettivo di rafforzare rafforzare il prodotto tipico italiano locale, è un brand che nella sua semplicità, perché i nostri consumatori chiedono semplicità, non vogliono avere sovrastrutture, qualcosa di semplice, veloce, immediato, diretto, non devo star lì a pensare cosa significa e se io vedo un prodotto locale che magari è comunicato con del materiale di supporto, ha due passi da qui mi stai raccontando una storia, tra l'altro c'è anche un simbolo che completa questo concetto, perché è un concetto a due passi da qui su cui noi spingeremo molto, vivrà nei negozi e lo andremo ad applicare sia sui prodotti tipici nostri, ma anche sui prodotti tipici dell'industria, perché è giusto dare valore alla qualità, alla qualità, la qualità deve avere il giusto posizionamento prezzo, deve avere il giusto display, deve avere la giusta comunicazione, deve avere il giusto vestito, deve avere soprattutto un ottimo gusto, il consumatore è disposto a pagare di più se la qualità c'è, è certificata, è tracciabile, è raccontata in un certo modo, l'incidenza dei nostri prodotti, chiamiamoli locali tipici, oggi viaggia intorno al 12% rispetto al totale dell'incidenza del mio prodotto amarchio. All'interno di questo, se io guardo invece soltanto i freschi e li rapporto con invece l'incidenza di tutti i prodotti freschi, il tipico pesa il 25%, noi per esempio abbiamo, ma proprio per stare molto attenti di offrire qualità, la carta dei valori, che è una carta dei valori che il nostro dipartimento qualità ha sviluppato e che va a garantire ai nostri clienti, che è un fornitore anche se piccolo, se risponde a determinati criteri di qualità, di rispetto dell'ambiente, nella certificazione della filiera produttiva, se lo stesso partner è consapevole di questo iter di processo, entra a far parte ovviamente in base a tutta una serie di logiche, non è scontato, entra a far parte della nostra squadra, ovviamente abbiamo nel nostro assortimento il brico di vino rosso, bianco da un litro, abbiamo una cantina con circa 60 etichette di nostri partner enogastronomici, tra l'altro proprio in questo momento è in completa rivisitazione quest'area, proprio per cercare di mettere a maggior valore i produttori locali, che devono rispettare determinati criteri di qualità come dicevo prima, il comparto del vino biologico, bio, è in forte crescita, è in forte crescita e quindi non possiamo stare seduti e guardare, dobbiamo entrarci dentro, dobbiamo dare, e io sono molto contento perché il biologico va incontro a quello che dicevamo prima, l'attenzione, l'ambiente, dobbiamo dare e proporre un'offerta giusta, misurata, senza fare passi troppo veloci, perché bisogna crescere in modo sano.